buonasera a tutti penultimo incontro dedicato a quella che si autodefinisce la madrina o la nonna della performance perché è tuttora viva in ottima salute e in un momento in cui quasi tutte le persone che hanno iniziato questa forma d'arte negli anni 60 hanno preso degli altri percorsi lei è riuscita a mantenere una strada e a non fossilizzarsi nella ripetizione ma trovare continuamente nuovi contenuti e nuove modalità la citazione con cui iniziamo va sotto l'idea di habeas corpus che è una parola molto usata in ambito legale c'è l'importanza di produrre il corpo di una persona nel momento in cui questa è stata accusata di qualcosa senza l'esistenza del corpo non è possibile un dialogo una relazione un discorso legato ai diritti l'esistenza stessa quasi di di una persona e abramovic dice credo che l'artista debba essere un disturbatore e noi dobbiamo interrogare la bellezza parola bellezza una parola che abbiamo escluso quasi subito quando abbiamo iniziato a lavorare su questo corso proprio per l'ambiguità che ha questa parola se però noi pensiamo all'idiota di dostoevsky a questa idea di una bellezza che salverà il mondo la bellezza può ritrovare un senso perché l'armonia l'armonia delle parti un equilibrio e allora da questo punto di vista l'abramovic dice l'arte non deve divertire pensando alla parola divertire come una parola che indica l'allontanarsi ci allontana dai problemi ci allontana dalla realtà cira serena ma deve disturbare deve alimentare un pensiero critico e nella performance se noi dobbiamo cercare degli ingredienti noi vediamo che tutti i quattro artisti su cui abbiamo lavorato hanno in qualche modo contribuito duchamp viene considerato il primo artista a praticare la body art cioè l'arte che si esprime attraverso il corpo l'abbiamo già visto con la tonsura e quindi è presente nella performance con il corpo che diventa luogo dell'azione e con l'utilizzo degli oggetti gli oggetti che lui prende dal mondo e che utilizza per creare i ready made abbiamo visto fontana e con fontana abbiamo parlato di limiti e di ferite quindi del buco fatto nella tela del taglio fatto alla tela come modalità per superare il proprio limite per andare oltre e quindi raggiungere un'altra dimensione per marina abramovic ovviamente la tela il corpo abbiamo visto warhol avevamo visto la citazione di warhol in cui lui diceva se cercate di capire chi è Andy Warhol guardate la superficie dei miei quadri e la stessa cosa vale per le performance dell'abramovic cioè è tutto lì è tutto evidente tutto davanti a noi possiamo veramente prendere alla lettera quello che accade perché la performance è fatta per colpire il pubblico direttamente senza una mediazione o un retro pensiero e l'altra cosa che abbiamo visto fare da parte di Andy Warhol è la costruzione di un personaggio pubblico c'è Andy Warhol ha creato il mito di se stesso il vestito nero lo zainetto le scarpe da tennis la parrucca argentata e alla fine dell'intervento abbiamo visto come la sua vita privata la sua stessa abitazione fosse tutt'altro rispetto alla modalità con cui lui si presentava al pubblico anche questo troviamo nell'abramovic la sua vita privata è un conto la sua vita d'artista è su un altro livello e infine avevamo visto Boyce Boyce con la sua idea dello sciamano quindi l'artista che è in qualche modo in contatto con la natura la frase ogni uomo è artista quindi questa elogio della creatività non pura ma come modalità impegno etico per cambiare il mondo e la figura evidenziata è Marina Abramovic di fianco a Boyce a Belgrado nel 1974 incontra Boyce nel 74 quando è già una performer e lei dice in fondo quando noi eravamo lì il contatto col mondo esterno in Serbia in Ingoslavia era molto filtrato molto rarefatto io di questi artisti ho saputo dopo quando già avevo deciso di iniziare a lavorare con il corpo e ci conviene ricordare una frase che avevamo citato già settimana scorsa che forse vista alla luce di quello che fa l'abramovic ci racconta un'altra volta come un intervento possa essere il ponte su un altro intervento quindi Boyce ponte sull'abramovic Boyce aveva detto le cose pensate o espresse a parole o realizzate nel gesto nel movimento vanno forse perse fuori dal mondo l'unica cosa che mi preme il colloquio con la gente l'arte mi interessa solo nella misura in cui mi dà la possibilità di comunicare di stimolare quest'idea del gesto che non va perduto che era anche in fontana no la materia che non è immortale ma il gesto che è eterno che ritorna in Boyce è alla base della poetica dell'abramovic cioè l'importanza del gesto che comunica del corpo che racconta e marina abramovic considera la performance la forma d'arte più immateriale che ci sia perché non ha bisogno sostanzialmente di nulla per esistere è una di quelle possibilmente meno legate al mercato al massimo si può vendere un video una fotografia una testimonianza ma non lascia dietro di sé nessuna traccia perché è perennemente confinata all'eterno presente nel quale si verifica e se ci ricordiamo l'azione artistica fatta da Boyce che aveva come titolo il silenzio di Duchamp è stato sopravvalutato e che lascia alle spalle questa scritta noi però ci accorgiamo che con Boyce c'è una differenza per Boyce l'errore di Duchamp era stato quello di aprire potenzialmente con una grande provocazione al cambiamento dell'arte e di essersi poi tirati indietro no diceva l'urinatoio alla fine non è stato esposto marina abramovic invece rivaluterà il silenzio come vero strumento di comunicazione il suo silenzio non è il silenzio di Duchamp che provoca e non porta avanti la provocazione ma è un luogo di comunicazione privilegiato per parlare della performance però vorrei fare un passo indietro perché credo che ci sia un'opera alla quale ovviamente non pensiamo se pensiamo all'abramovic che in realtà ci può avvicinare molto a capire quello che accade l'opera è le sabine di Jacques-Louis David che vittore ovviamente francese legato al momento della rivoluzione francese diventerà poi premi e pentri di Napoleone che nel 1799 appena è finito il periodo del terrore e quindi lui ha avuto anche una stato anche prigioniero crea quest'opera dedicata alle sabine quindi alle fanciulle rapite dai romani che portano la pace tra l'esercito romano e ovviamente i loro parenti infatti c'è questa figura femminile che si mette al centro del quadro non è della figura femminile al centro del quadro che voglio parlare perché non è quella la performance che cosa fa però David primo artista nella storia dell'arte non mette l'opera nel salon quindi nell'esposizione principale ma prende una stanza della vecchia accademia dell'architettura fa pagare un biglietto e posiziona questo dipinto in una parte della sala e nella parte esattamente opposta mette un grandissimo specchio e invita le persone che entrano a guardare quest'opera guardando lo specchio perché perché se guardano l'opera attraverso lo specchio loro fanno parte dell'opera l'opera non era un'opera fine a se stesse un'opera che voleva dopo tutte le teste cadute dopo il terrore incitare alla pace quindi era un'opera che aveva anche un valore politico molto forte il cittadino che nello specchio si vedeva all'interno del dipinto perché la sua immagine ovviamente dialogava con quella dell'opera entrava a far parte di questa macchina e quindi le Sabine che cosa ci mostrano ci mostrano che il pubblico può entrare nell'opera per interagire già dalla fine del settecento e c'è un'altra opera che ci avvicina di nuovo al lavoro dell'Abramovic che è il Davide Golia di Caravaggio dove si riconosce nella figura di Golia proteso in avanti proprio verso il pubblico da parte di David l'autoritratto di Caravaggio è una delle ultime opere Caravaggio la manda a Scipione Borghese per chiedere la grazia e la possibilità di rientrare a Roma dopo l'esilio e quindi che cosa fa l'artista? L'artista si dipinge nell'opera come autoritratto parlante cioè la testa mozzata è una testa che chiede grazia allora in Davide abbiamo il pubblico che entra nell'opera per interagire in Caravaggio abbiamo l'artista che entra nell'opera per interagire è una dichiarazione di intenti molto molto forte questo ci conduce al tema quindi del corpo dell'artista perché? Perché ci sono due poli nella performance di Marina Abramovic il primo è il corpo dell'artista e il secondo è il corpo del pubblico sono due modalità diverse come corpo dell'artista facendo un passo indietro pensando che Marina Abramovic nasce a Belgrado nel 46 da due genitori che non sono due persone qualsiasi come i genitori diciamo di Warhol ma sono uno un eroe di guerra l'altra anche lei militante nell'esercito e eroina e passionaria direttrice del museo della rivoluzione dell'arte frequenta l'accademia ma quando inizia a lavorare con la performance viene presa un po' come una matta non viene assolutamente presa in considerazione e i genitori anche gli insegnanti dell'accademia si chiedono cosa hanno fatto di male perché questa giovane e promettente artista si dedichi a questa forma d'arte all'epoca ancora così poco praticata Marina Abramovic decide di lavorare sulla tridimensionalità subito e riconosce come tridimensionalità per eccellenza il proprio corpo corpo non visto come carne isolata ma come luogo dell'unione della mente dell'anima e appunto della carne e per fare esperienza per per conoscere il corpo l'unica possibilità che si ha è quella di farne esperienza di metterlo alla prova di agire sopra il corpo e per fare esperienza del corpo il percorso che Marina Abramovic ceglie è quello di lavorare sui limiti quali sono i limiti del corpo questo è il primo sentiero imboccato dall'Abramovic la volta scorsa avevamo visto The Healing of St. Thomas di Capur se vi ricordate e avevamo parlato della ferita come dimora del dubbio la ferita parlando ci eravamo fatto riferimento alla domanda di Don Giuliano e avevamo detto questa ferita passando attraverso la quale il dubbio trova comunque una quiete l'accostiamo a un altro dipinto di Caravaggio un artista straordinariamente contemporaneo che è l'incredulità di San Tommaso che ha una caratteristica rispetto a molti altri dipinti simili se noi lo osserviamo da vicino noi vediamo che non solo c'è il dito di Tommaso che fruga comunque cioè vediamo i lembi della ferita completamente aperti ma la mano di Tommaso è guidata dalla mano di Cristo non è Tommaso da solo ma c'è un appoggio e è quello che accade nella performance cioè l'artista ha bisogno di un dialogo diretto con il pubblico perché il pubblico riesca a interagire con lui per Marina Abramovic uno dei grossi problemi della performance è quando l'artista non è convinto della performance quando la performance non è completamente sincera perché dice il pubblico questo lo capisce e allora non può funzionare niente funziona solo se c'è una dedizione totale alla necessità di instaurare un rapporto con l'altro di accoglierlo e di creare in questo modo una specie di campo quasi di energia se quindi la partenza è questo discorso della ferita che si fa di Mora dal punto di vista dell'Abramovic usare solamente l'occhio l'occhio non basta l'occhio non basta per comprendere la ferita e il problema che si ha quando una persona mette in gioco mette all'esterno il proprio dolore è che il dolore non è solo qualcosa di cui noi faremo volentieri a meno quando sappiamo che qualcuno lo prova ma quando noi vediamo l'accadimento di un dolore la visione di questo dolore diventa per noi molto diventa insopportabile a fatica vedere una persona che si taglia vedere una persona che sta male vederla fisicamente non vederla attraverso la spettacolarizzazione del video che crea al massimo un discorso patetico ma non un vero e proprio coinvolgimento diventa insopportabile se ci pensate l'urlo il grido è molto utilizzato nelle arti figurative ma lo si vede pochissimo in televisione e nei film il grido il grido legato al dolore perché è insopportabile è qualcosa che la nostra mente fa fatica a gestire allora tantissimi sono i dipinti in cui le figure urlano ma pochissimi sono i film in cui c'è l'urlo il dolore viene di solito silenziato coperto da altri rumori più forti perché è quello che ci manda ovviamente molto più in difficoltà e questa modalità Marina Abramovic la sperimenta attraverso una serie di performance all'inizio degli anni 70 questo è Ritma 1973 i luoghi che Marina Abramovic utilizza per fare delle performance sono dei luoghi che diventano dei posti precisi rispetto a tante altre performance pensando magari ad artiste che qualcuno conosce qualcuno no come Gina Pane lei apparecchia la scena molto spesso con un drappo bianco una tovaglia bianca quindi unisce alla performance un'attenzione molto forte alla ritualità lo stesso fatto che chiami queste performance ritmo indica che c'è uno spartito alla base che non sono frutti non so come dire di un'improvvisazione o di lasciarsi andare a se stessi ma anzi richiedono una concentrazione mentale molto molto forte in questa performance Marina Abramovic mette un drappo bianco per terra e dispone 20 coltelli tutti diversi poi appoggia la mano e inizia questo gioco russo che consiste nel muovere il coltello attraverso le dita si registra ogni volta che si ferisce cambia coltello la performance va avanti fino a quando non ha finito tutti i 20 coltelli a quel punto fa partire la registrazione e cerca ascoltando la registrazione di ripetere con gli stessi coltelli gli stessi errori che ha fatto in precedenza che vuol dire mettere in scena il dolore e il tentativo di rivisitare il dolore che non è assolutamente facile se io contemplo il dolore dal punto di vista del pubblico non ho solo il pensiero felice del fatto che quel dolore non mi appartiene e che quindi mi tocca a un altro e non a me ma allo stesso modo contemplare il dolore mi mette nella consapevolezza di sentire che questa rovina questa ferita è potenzialmente possibile anche per me non esiste lo spettatore puro quello che è talmente lontano dalla ferita e dal corpo da non rimanere in qualche modo turbato e quindi non vedere nella gestualità di Marina Abramovic lo specchio delle proprie paure del proprio dolore della propria fatica e questo è un particolare che vi fa vedere come è preciso per questo vi dicevo pensiamo a Fontana Fontana cerca il limite tagliando la tela Marina Abramovic cerca un limite mettendo alla prova ovviamente se stesse vedendosi attraverso questa ferita passa della conoscenza o passa del sapere una delle sue performance più famose è avvenuta in una galleria privata a Napoli in questa galleria lei ha di nuovo apparecchiato un tavolo e su questo tavolo ha messo una settantina di oggetti oggetti che potevano portare piacere o dolore quindi c'erano coltelli lamette una pistola carica ma c'erano anche delle piume c'erano delle biro c'erano dei fiori e ha detto al pubblico io per sei ore sarò sostanzialmente un oggetto passivo è stata una delle performance più pericolose l'ha detto in quel momento mi sono resa conto che quella volta avrei potuto morire perché non avevo il controllo del pubblico e la violenza nella vita si verifica ogni volta che c'è una simmetria ogni volta in cui qualcuno sente di avere più potere rispetto all'altro questa è la situazione in cui si verifica la violenza e quello che accadde fu che nelle prime due ore il pubblico fu un po' titubante tra l'altro galleria privata quindi pubblico tutto sommato abbastanza selezionato non è che l'ha fatto non so in pieno centro vicino alla stazione quindi dovete anche pensare che tipo di persone erano lì presenti quindi magari qualcuno si avvicinava qualcuno magari la toccava ci poteva essere quella attenzione ma niente di più dopo un po' però è iniziato il discorso del branco e quindi hanno iniziato a toccarla scriverla addosso tagliarla ferirla e mentre un gruppo piano piano faceva emergere questa violenza si venne a creare un gruppo di protezione che intervenne nel momento in cui una persona del pubblico prese la mano di Marina Abramovic le mise in mano la pistola carica e gliela fece puntare alla testa allora lì parte del gruppo intervenne e ci fu un tafferuglio passate le sei ore lei smise di essere un oggetto passivo e nel momento in cui ritornò a essere un oggetto attivo e si avvicinò al pubblico alle persone che le avevano fatto questo le persone si allontanavano cioè tutto questo era possibile solo nella misura in cui lei dichiarava di essere passiva perché quando poi la simmetria cambiava il pubblico si rendeva conto che tutto quell'essere trascinato che aveva avuto ci volevano sei ore se fosse stato un'ora sola non sarebbe successo immediatamente lo metteva davanti a tutta una serie di responsabilità che diventavano anche ovviamente molto ma molto difficili da gestire quindi tutto questo ci dimostra una logica che è l'antica logica del sacrificio il sacrificio che cos'è? l'uccidere un animale il sacrificare comunque un animale il sacrificio è quell'elemento che interrompe il legame tra un oggetto che può essere l'animale del sacrificio e la vita quotidiana in cui questo oggetto è inserito proprio perché recide quel legame l'oggetto viene visto con una modalità altra come se appartenesse a un mondo altro quando Marina Abramovic mette in scena attraverso la performance che non è niente di teatrale perché è vera ed è reale il sacrificio di sé apre la mente del pubblico a una nuova possibilità di vedere le cose una delle altre performance che mise in gioco anche lunga e complessa Lips of Thomas o Thomas Lips consisteva nel mangiare un chilo di miele bere un litro di vino poi alzarsi da questa tavola apparecchiata tagliarsi con la lametta all'addome a forma di stella sdraiarsi su una croce fatta di pezzi di ghiaccio con dall'alto un ventilatore che emetteva dell'aria caldissima mentre una parte del suo corpo congelava e perdeva coscienza la parte superiore sottoposta al flusso dell'aria calda sanguinava copiosamente e anche lì il pubblico intervenne perché non riusciva a gestire la visione del dolore Marina Abramovic aveva in quel momento diversamente da Napoli completamente il controllo della situazione ma il pubblico non era in grado di resistere e quindi un'altra volta il pubblico intervenne che cosa dimostra con Lips of Thomas Marina Abramovic dimostra che davanti al dolore il linguaggio viene distrutto cioè nel momento in cui si prova dolore la parola non c'è più la persona diventa fasica distruggere il linguaggio in una civiltà logocentrica comunque profondamente basata sul verbale come la nostra vuol dire aprire un'altra modalità di osservazione l'altro elemento che viene introdotto è il fatto che sconvolge gli elementi più elementari della percezione io sono abituato a guardare sono abituato a osservare sono abituato a capire che cosa accade io pubblico davanti a quella situazione non sono in grado di comprendere o più che di comprendere non sono in grado di accettare e l'unica possibilità che ho è di fermare quello che sta accadendo perché il mio sguardo non lo regge e in quel momento Marina Abramovic disse è come un'operazione quando ti tagliano con il bisturi ma nello stesso tempo l'operazione è positiva e questo perché il bisturi va bene il bisturi è necessario per la tua salute tenete presente che Marina Abramovic non era una figura autolesionista non so come dire depressa con turbe psichiche anzi nel suo decalogo di quello che deve fare l'artista uno degli elementi principali è l'artista non deve soffrire di depressione perché la depressione è gravissima per la condizione di artista anzi la sua figura è molto più vicina a quella dello sciamano gli sciamani della Siberia si incidevano il corpo ad esempio abbiamo visto Beuys che per raccontare le proprie idee accetta pacificamente di essere preso a pugni se vi ricordate e quando abbiamo parlato di come Beuys inizia a fare arte raccontando del salvataggio da parte dei tartare abbiamo detto ci sono delle ferite che mutilano ma ci sono delle ferite che fanno crescere come quella del taglio del cordono umbilicale oppure quella di amputare un arto allora abbiamo detto c'è come diceva Fontana quando parlava del taglio di lì ci passa la luce passa l'infinito da quella parte e quindi non è un taglio per divertirsi e mortificare il proprio corpo ma anzi è un taglio che apre il pubblico a leggere nell'opera dei concetti che non ci aveva mai visto prima l'umiltà l'apertura l'ascolto la necessità di comunicazione tutto questo in opere precedenti non era stato diciamo così possibile vederlo e a questo punto siamo intorno alla metà degli anni 70 Marina Abramovic incontra Ulai che sarà un artista tedesco che sarà suo compagno nella vita e suo compagno nella performance per molti anni lei sottolineò sempre che l'arte la vita non influenza l'arte ma viceversa cioè dice piuttosto è stata la mia vita che in qualche modo è stata influenzata da quello che ho fatto come artista ma non è mai stato viceversa e nel lavoro con la performance l'artista si rende conto che l'oggetto il materiale con cui lei deve lavorare è il corpo performativo cioè non è il suo corpo di Marina Abramovic nella vita privata ma è proprio il corpo dell'artista e il corpo dell'artista ha un limite il limite viene dato dal tempo il tempo è il limite da tenere presente nel momento in cui si lavora sulla sofferenza o sulle possibilità che ha il corpo di dialogare nel momento in cui il corpo muore durante la performance la performance è fallita non è riuscita perché non c'è più lo strumento il materiale della comunicazione con Ulai loro parlavano di se stessi come corpi loro erano due corpi erano il self erano un'unione sostanzialmente di due figure artistiche e quando inizia a lavorare con Ulai Marina Abramovic modifica la modalità di lavorare parlando delle sue prime performance lei scrive mostravo il pericolo mostravi i miei limiti ma non davo risposte questo metteva in difficoltà il pubblico vedere questo vaso di Pandora aperto tutti questi drammi anche queste richieste queste esigenze della società contemporanea essere messe così scopertamente alla luce esposte in modo sceno usando proprio il termine proprio sceno e drammatico e non sapere quale poteva essere la soluzione infatti dice il risultato non era un vero e proprio pericolo ma solo la struttura e questa struttura dava all'osservatore un certo tipo di shock l'osservatore non si sentiva più al sicuro era sbilanciato questo gli creava un vuoto dentro doveva rimanere in quel vuoto e io non gli davo nulla cioè si accorge che il pubblico che c'è presente partecipa si trova in una sensazione di vertigine di caduta libera non riesce ad aggrapparsi a niente rispetto a quello che accade e allora Marina Abramovic prosegue in questo lavoro sul corpo considerato come vascello dell'anima vascello della mente e del pensiero e le performance che fa indagano continuano a indagare i limiti ma allo stesso modo mettono lo spettatore dal punto di vista di chi in qualche modo comunque partecipa perché senza il pubblico la performance non esiste e a interrogarsi su quelli che sono i propri limiti ma non c'è limite senza possibilità la volta scorsa abbiamo detto no la brocca per essere tale deve contenere il vuoto se non contenesse il vuoto non potrebbe essere brocca allo stesso modo il limite nella performance non è un punto d'arrivo ma è un punto di partenza il confine non è un elemento oltre il quale non c'è nulla ma anzi è un invito al viaggio e quindi abbiamo performance come questa in cui Marina e Ulai si avvicinano da lontano e continuano a urlare con tutto il fiato che hanno nel corpo ripeto è difficilissimo l'urlo da gestire o da sopportare soprattutto un urlo fatto ai limiti della propria tensione oppure si schiaffeggiano ripetutamente uno da uno schiaffo all'altra e l'altra da uno schiaffo di nuovo non sta in realtà accadendo qualche cosa di fisicamente drammatico all'eccesso eppure il vedere due persone che si schiaffeggiano con un ritmo e un rigore mette in discussione tutta una serie di percezioni nostre della realtà mette in mette allo scoperto la violenza il corpo che riceve lo schiaffo la modifica del corpo che riceve lo schiaffo e la capacità di sopportazione che inizia a essere molto ridotta nel tempo non è una performance da sei ore come quella di Napoli ovviamente questa è solamente da dieci minuti oppure questa che viene fatta a Bologna in Ponderabiglia dove Marine e Ulai si mettono ai due lati dell'ingresso della galleria e il pubblico se vuole entrare deve necessariamente passare attraverso di loro decidendo da che parte girarsi alla fine poi c'era anche questa fotografia dei poliziotti che entrano anche loro così e poi li fanno sgomberare perché in Italia la situazione era anche un pochettino diversa è come dire passami attraverso per entrare fisicamente nell'arte lo spettatore che voleva entrare nel museo doveva passare attraverso il corpo dell'artista è molto forte come concetto è di una semplicità incredibile Marina Abramovic diceva nella performance ci deve essere un concetto reso nel modo più visibile possibile comunicabile e questo passami attraverso per raggiungere l'arte è una dichiarazione di intenti molto forte se tu non passi attraverso il corpo dell'artista tu non puoi avere esperienza del suo percorso se noi noi che adesso lo guardiamo vediamo la spettacolarizzazione di una performance essere lì è diverso questa è una documentazione l'azione artistica noi possiamo solamente immaginarcela ma se non la proviamo ne possiamo parlare come un documento d'archivio oppure resta energy Ulai prende la freccia di un arco la tira e la punta al cuore di Marina 4 minuti e 10 secondi fino al limite virtualmente l'amore tra due persone visto come un legame ma un legame in cui ci sono due forze che tirano da due parti diverse che devono trovare un equilibrio per non ferirsi a vicenda ed è ovvio che il pubblico presente queste cose se le sente sulla pelle e resta lì col fiato sospeso ma non col fiato sospeso per dire vediamo come va a finire perché ognuno poi ha la sua idea di come va a finire ma perché la tensione che si verifica in quel momento per il fatto che loro stanno facendo questa performance davanti a delle persone che devono essere coinvolte in questa riflessione e allora io che sono lì sento che sta accadendo qualche cosa che io sono testimone e che il tempo nella durata in cui avviene questo gesto si è fermato ci fu poi una performance che decretò la fine della loro relazione relazione artistica e anche relazione di vita e fu questa performance che si chiamava Night Sea Crossing durò quattro anni 22 volte venne fatta per una novantina di giorni Ulay e Marina si siedono ai lati di un tavolo al centro ci sono molto spesso degli oggetti un serpente un boomerang delle statuette fatte con il grasso di maiale la cera e si osservano rimanendo completamente immobili per nove ore senza mangiare senza bere a un certo punto Ulay dice a Marina il mio corpo non riesce più a reggere questa performance i reni sono distrutti il mio medico mi dice che devo smettere perché questo digiuno in mobilità forzata era una era diventata estremamente dolorosa abbiamo detto prima che è un po' come il pianista che assicura le mani cioè il performance non può distruggere il proprio corpo anzi c'è un rispetto fortissimo e Marina dice non ci sono problemi io mi siedo a quel tavolo e sto da sola e Ulay non vuole perché non vuole che venga messi in scena il fatto che il suo corpo abbia avuto dei limiti diversi da quelli di Marina Abramovic non è per una gelosia è perché ritiene che con una sola persona la performance non possa funzionare ma Marina dice no perché anche l'assenza di una persona che dovrebbe essere qua fa parte di una presenza come la tradizione a volte di apparecchiare a tavola per il marito il padre che non c'è più dove l'assenza è altrettanto importante della presenza e quindi in questo momento avviene questa rottura e proprio durante questo periodo Marina e Ulay realizzano una delle performance forse più struggenti che è quella dedicata all'anima mondi Marina e Ulay stanno lui all'incima la gradinata lei sotto la gradinata questi sono i gradini con l'ombra e rimangono immobili con le braccia protese fino a quando la luce non spingerà l'ombra di Marina fino ad arrivare a Ulay e a quel punto le due figure si fonderanno in quest'immagine Marina col vestito rosso che tiene in braccio Ulay vestito di bianco è ovviamente un riferimento alla pietà ma c'è molto di più del riferimento alla pietà prima di tutto perché il corpo di Ulay crea la M la M di Mundi la M di Marina è come se fossero una A e una M che si mescolano Marina Abramovic anima Mundi ma al tempo stesso è un'allusione all'idea della visione cinese della nascita del mondo nato da una goccia di sangue e da una goccia di sperma con l'idea che la vita e la possibilità di generare unendosi quindi l'unione di una ferita e una nascita siano alla base dell'origine del mondo è diversa dalla pietà di Michelangelo ma è simile alla pietà di Michelangelo è diversa perché Marina guarda in alto l'anima Mundi è l'idea della bellezza dell'idiota di Dostoievski cioè l'armonia la ricomposizione degli opposti nella pietà di Michelangelo la Madonna guarda in basso in entrambi però madre figlio nella pietà e Marina e Ulai c'è la stessa età infatti una delle critiche che era stata fatta a Michelangelo non comprendendo il valore simbolico dell'opera era che la Madonna fosse troppo giovane e lui ha detto ma simboleggia la chiesa e la chiesa non invecchia e rispetto a questo la separazione proprio perché sono stati insieme così tanto deve trovare una sua elaborazione come l'elaborazione del lutto e Marina e Ulai decidono di celebrare la loro separazione attraverso una camminata sulla grande muraglia l'unica opera che insieme alle piramidi è visibile dallo spazio la grande muraglia era un progetto che avevano fatto pensando di incontrarsi a metà e di sposarsi decidono comunque di farlo per incontrarsi a metà strada e salutarsi lei che è la figura diciamo così più accogliente femminile parte dove c'è il mar giallo lui la figura maschile più spigolosa parte dalla parte del deserto dei Gobi camminano e si incontrano appunto a metà strada 90 giorni di cammino questa è Marina questa è una delle immagini che documentano questo percorso e appunto alla fine arrivati a metà si incontreranno non è una passeggiata in montagna è una performance perché è dovuta proprio al racconto del fatto che la relazione con l'altro è un percorso è un cammino non è lo stare uno da una parte uno dall'altra per questo nelle performance di Marina non ci sono elementi tecnologici che al di là magari dei video delle registrazioni perché è importante l'essere presenti e quindi anche la separazione ha bisogno di un avvicinamento per essere veramente portata avanti c'è a questo punto una nuova visione da parte di Marina della sua modalità di lavorare con il corpo ed è il momento in cui entrano in scena ossi, scheletri e serpenti ossa, scheletri e serpenti perché le ossa ricordano comunque questo legame con la morte che il dolore ovviamente anticipa e porta all'attenzione serpenti perché l'aver percorso la grande muraglia l'ha resa consapevole dell'idea che ci siano comunque non solo nella vita ma anche nei luoghi in cui noi ci muoviamo e nel nostro corpo delle linee di energia e quindi il lavoro che lei inizia parte con una performance chiamata The Biography la biografia in cui lei si mette su questo supporto nella figura di una femmina crocifissa con in mano due serpenti i riferimenti sono moltissimi perché il serpente è una figura duplice il serpente che si morde la codicina rappresenta l'infinito i serpenti si trovano sul bastone di Esculapio sono dei guaritori dal veleno del serpente nasce la morte ma nasce anche la vita perché il veleno del serpente può essere curativo e quindi è questa figura doppia portatrice di vita con la forma di un segno e quindi abilitata quasi anche a scrivere con tutta una serie di rimandi anche al mondo religioso che prima nelle sue opere non c'erano quando la sciaulai il rito e l'iconografia religiosa entrano comunque a far parte della sua riflessione avevamo visto quanto la crocifissione era stata anche al centro del lavoro di Beuys sempre trasposta quindi con riferimenti a Santa Liberata con riferimenti alla dea dei serpenti di Creta con riferimenti alla tradizione romantica e simbolista come il peccato di Franz Wonstuck questa figura con intorno avviluppato questo serpente come simbolo di lussuria e di un corpo ovviamente che cede che si avvolge nelle spire la donna che può diventare una dominatrice e se noi vediamo alcune di queste performance come Dragon Heads voi vedete Marina sempre con questo discorso dell'apparecchiatura della scena su una poltrona con intorno cinque pitoni che non mangiano da due tre o quattro settimane intorno non è bambagia quella che vedete ma sono blocchi di ghiaccio perché il pubblico ci deve essere deve essere fisicamente presente deve essere vicino ma non deve sentirsi minacciato e quindi ecco questa specie di cerchio di forza all'interno della quale lei con il massimo autocontrollo fa percorrere il suo corpo dai serpenti e dice io sento i serpenti che si muovono e il fatto che percorrono le linee capite che non può essere di una persona esaltata una performance del genere perché l'autocontrollo ripeto che richiede la capacità di dominio del corpo che diventa sede di percorrenza deve essere assolutamente straordinaria ma allora lei si dice di non aver avuto un'infanzia felicissima ma ma non perché sia stata torturata anzi lei dice la prima parola che ha detto non è stata mamma o papà ma è stata il greco quindi sì forse ha avuto un'infanzia infelice perché la portava molto spesso nei musei quando uno va nei musei poi molto spesso prende ma in realtà sono performance nelle quali lei è nelle quali lei ha comunque perfettamente il controllo non c'è mai un rigido copione lei non sa che cosa faranno i serpenti ma sa che il proprio corpo è stato preparato a raccontare e a mettere questo a disposizione del pubblico così come resta molto forte ovviamente la relazione con la morte di nuovo che possiamo andare a pescare non solo nel museo Bernareggi dove ci sono tutta una serie di fantastici dipinti con figure scheletriche addobbate o nell'abside di di Santa Grata dove io mi sono sposata per questa mia particolare affinità con gli scheletri dove c'è questo abside del Bonomini ma è anche più vicino a lei se andiamo a vedere nell'ottocento Boklin nell'autoritratto con la morte con lui con in mano il pennello e la morte dietro che suona la quarta corda del violino o la belle rosin di Wirz dove c'è questa fanciulla che non è la belle rosin che guarda uno scheltro sul quale c'è questo bigliettino che dice questa fu la bella rosina quindi questo non avere comunque timore del confronto della morte come elemento perennemente presente nell'esistenza di una persona con la quale bisogna tutto sommato fare i conti ed ecco che iniziano queste performance con all'interno questa parola chiave che è la parola specchio cleaning the mirror numero due con quest'idea della pulizia cleaning the mirror vuol dire pulire lo specchio pulire lo specchio per guardarsi meglio in questa performance che viene ripresa da un video lei respira con sul proprio corpo uno scheletro lei respira e lo scheletro si muove io è come se di nuovo fosse l'assenza che richiama la presenza il mio respiro mi mette in contatto con il momento in cui il mio respiro non ci sarà più io muovo il mio corpo ma nel momento in cui io lo muovo io sono consapevole che tutto questo è un dono il fatto che ci sia la vita o che esista qualcosa che io posso chiamare vita c'è perché esiste qualche cosa che io posso chiamare morte e questo è il lavoro che ovviamente lei mette in scena tenete presente che lo specchio è qualcosa che cattura la realtà l'abbiamo visto con il dipinto di David i pellegrini che andavano a vedere le reliquie molto spesso portavano con sé uno specchio e quando erano davanti alla reliquia posizionavano lo specchio vicino in modo tale che lo specchio ne catturasse l'immagine e quando tornavano a casa mostravano lo specchio dicendo questo specchio custodisce la reliquia ha catturato questa immagine quindi l'idea dello specchio che come diceva García Lorca lo specchio è l'eco fatta carne è qualcosa che mi rimanda me stesso nella mia interezza e allora lo scheletro mi rimanda la vera immagine di me non di una figura onnipotente ma di una figura potenzialmente fragile oppure l'altra performance Cleaning the Mirror dove lei con una spazzola lava e pulisce uno scheletro si prende cura della giusta morte quindi vuol dire anche non sporcarla avere l'attenzione al fatto che possa comunque essere un passaggio rasserenante l'idea comunque di confrontarsi e non coprirla di nero metterla sotto terra a far finta che non ci sia una performance in cui il video riprende dei frammenti mano a mano del volto e quindi noi vediamo questi frammenti tra di loro molto spezzettati e questo ci introduce a un'altra pietà visto che siamo partiti con quella di Michelangelo che è la pietà di Jan Fabre Jan Fabre crea questa pietà lavorando per due anni a un blocco di marmo di Carrara che è la partenza ovviamente della pietà di Michelangelo dove sulle ginocchia della Madonna c'è il proprio autoritratto vestito con abito da sera lui tiene in mano un cervello e il volto della Madonna è il volto di un teschio se torniamo indietro ci ricordano l'idea di Marina Abramovic Marina Abramovic è viva e tiene in mano uno scheletro morto in questo caso la Madonna tiene in mano Jan Fabre l'artista o l'artista che fa le veci di Cristo morto e perché ha la testa a forma di scheletro perché Jan Fabre mette in scena uno degli elementi al centro della riflessione di Marina Abramovic la compassione che vuol dire provare un sentimento forte insieme a qualcuno allora va oltre la pietà di Michelangelo Jan Fabre la compassione provata dalla Madonna nei confronti del figlio è tale che per compassione il volto della Madonna diventa quello di uno scheletro allora Jan Fabre ci aiuta a capire che cosa può raccontare l'utilizzo del teschio non è l'apologia della morte anzi è l'apologia comunque di un dialogo di sentimenti che torna in scena nella performance che vale il leone d'oro alla Biennale di Venezia nel 1997 Balcan Baroc Marina Abramovic al centro di un'installazione con un filmato con la madre il padre e se stessa mentre racconta di un modo abbastanza tragico in cui in Serbia i topi vengono aizzati a uccidere i propri compagni sta per sei giorni su un blocco di femori di bue con una spazzola a cercare di levare i nervi i tendini e la carne lo fa per sei giorni si entra e si sente l'odore della putrefazione nel sesto giorno ci sono i vermi su queste ossa e lei sta lì tutto il giorno a cercare di pulirle a cercare di lavare via il sangue e cantando delle negne che sembrano quasi dei mantra quindi è un'operazione molto scioccante per il pubblico che già la sente prima ancora di entrare perché il fetore è fortissimo e quest'idea è veramente barocca con questo tripudio che va a coinvolgere i sensi e qua dove sembra quasi di nuovo una madonna che tiene in braccio un bambino mentre ha in mano queste ossa potremmo far parlare Marina Abramovic che in quell'occasione disse proprio non si lava via il sangue dalle ossa come non ci si pulisce dalla vergogna della guerra era quasi finita la guerra dei Balcani ma quello che lei ci teneva a raccontare era attenzione io non sto facendo una performance sulla guerra dei Balcani cioè non sto lavorando sulla vita io sto facendo una performance su qualsiasi guerra su qualsiasi eccidio perché è un paradigma valido per tutti allora chi voi che vivete nelle vostre tiepide case diceva Primo Levi quando dice se questo è un uomo voi che queste cose non le avete viste è questo che sembra dire Marina Abramovic cioè recuperate il rapporto col corpo sentite gli odori guardate il sangue non è sangue umano ma l'effetto ovviamente scardina non solo qualsiasi idea che noi abbiamo di arte ma ci rende rende consapevoli sostanzialmente che l'arte può metterci a contatto col dolore e farcelo provare ed ecco che arriviamo all'ultimo momento quello un po' più diciamo vicino a noi nel percorso delle performance di Marina Abramovic e che poi culmina appunto in questo lavoro che si chiama The Artist is Present partiamo da Duchamp Marina Abramovic che ritorna per questo vi dicevo una volta capito Duchamp ovviamente è tutto in discesa Duchamp aveva detto il pubblico deve essere creativo come l'artista quindi dice Marina Abramovic la partitura della performance apre al pubblico la possibilità di essere attivo e non solo un voyeur dell'esperienza di qualcun altro è pericoloso il voyeurismo nell'arte perché vuol dire tenere le distanze quindi il pubblico dicevamo all'inizio deve diventare corpo dell'arte tanto quanto il corpo dell'artista ci deve essere un ribaltamento il corpo dell'artista deve essere lo specchio attraverso il quale il pubblico diventa arte e allora ecco che in questa posizione che ricorda quella di Marina Abramovic con i femori e che abbiamo usato la volta scorsa per dire qual è il legame tra Beuys e l'Abramovic l'Abramovic mette in scena sette performance di sette artisti precedenti dicendo sostanzialmente che la performance era diventata una terra di nessuno che moltissimi citavano delle performance nel mondo della moda o nella musica senza neanche raccontare a chi questi lavori erano dovuti e chiede ovviamente agli eredi se gli artisti non ci sono più la possibilità di farlo e qua è il raccontare se vi ricordate come raccontare come spiegare i quadri a una lepre morta con questa modalità tutto questo diventa un importantissimo omaggio consapevole quindi assume su di sé l'onere e l'onore di recuperare riportandoli all'attenzione del pubblico dei momenti cruciali legati alla performance e il rapporto col pubblico diventa ancora più forte in un'opera Mambo Amari Embad c'è la fotografia all'alt di Alzano che è una performance che lei fa per rivisitare l'ospedale psichiatrico di Volterra le viene chiesto di fare questo lavoro e lei che cosa fa crea un percorso una passerella metallica che passa attraverso le sale dell'ospedale e invita il pubblico a camminare lungo questa passerella in fondo ci sarà lei che balla un mambo con un vestito rosso uno dice vabbè il pubblico entra e vedi i locali no non è così semplice il pubblico che entra deve mettere delle scarpe cambiare scarpe vuol dire cambiare già identità vuol dire entrare nei panni di qualcun altro sotto queste scarpe ci sono dei magneti e camminando sulla passerella metallica il pubblico si accorge che il suo corpo non cammina più come cammina nella vita e quindi si trova ad attraversare questi spazi con la lentezza la fatica e l'impaccio del malato psichiatrico costretto nella struttura e allora piano piano il pubblico entra e diventa l'opera non parte dell'opera ma il pubblico che diventa l'opera nel suo percorrere questa strada e allora che cosa vuol dire l'artista è presente ce lo dice Van Eyck se vogliamo divertirci a tornare un po' indietro con questo dipinto molto famoso dei coniugi arnolfini in cui la chiave del dipinto sta nello specchio perché nello specchio noi vediamo frontalmente la figura di Van Eyck con la scritta fra l'altro sopra Van Eyck fu it ic cioè fu qua Van Eyck che è testimone dello scambio di promesse tra questi due mercanti tra questo mercante lucchese e sua moglie allora perché the artist is present l'artista sta alla performance nel caso di Marina Abramovic come in quest'opera di Van Eyck cioè il protagonista dell'opera devono essere i coniugi arnolfini e non l'artista l'artista con la sua presenza la sua testimonianza e lo specchio racconta qual è il tramite tra se stesso la sua arte e noi noi dobbiamo riuscire a guardare negli occhi dell'artista come se fossero uno specchio l'artista restituisce a noi quello che noi siamo e quindi noi ne usciamo con una nuova consapevolezza ed ecco che viene fatta a questo punto al MoMA questa performance è una performance che dura tre mesi settecentotrenta ore sei giorni su sette Marina è seduta a un tavolo di fronte a lei c'è una sedia chiunque può entrare e sedersi davanti a lei e chiunque può stare ci furono delle persone che rimasero tutto il giorno si poteva rimanere cinque minuti dieci lei diceva io sono qua e vi do tutta me stessa per tutto il tempo per cui voi ne avete bisogno quindi il pubblico si sedeva la guardava e lei dice guardavo negli occhi delle persone e potevo sentire la loro sofferenza io diventavo lo specchio delle loro emozioni e quindi loro incontravano dentro di me se stessi furono moltissime le persone che scoppiarono a piangere durante questa performance e ci fu questo è il setting diciamo e ci fu un episodio particolarmente importante che spero riusciate a vedere grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Ulay ma in realtà no non è per quello che si è messa a piangere nel senso che anche se è l'unica occasione in cui lei ha toccato la persona davanti a sé proprio perché dice il silenzio è fondamentale per la comunicazione proprio perché se io mi privo della parola allora sono in grado di recuperare una risposta cioè le parole dice sono comunque dei filtri delle cose che si frappongono mentre lo sguardo racconta molto di più allora se il suo sguardo è lo specchio della persona che aveva davanti ovviamente si capiscono le lacrime perché comunque non è il suo corpo nella vita ma è il suo corpo di artista quello che c'è qua bisogna stare sempre molto attenti anche se rompe il rito della performance allungando le mani le lacrime che lei ha negli occhi sono le lacrime di Ulai e furono molte appunto le persone che piansero e nello sguardo di Marina Abramovic noi possiamo riconoscere uno sguardo molto più antico la Santa Giovanna d'Arco di Dreyer con René Faccoetti che era stata appunto spinta all'estremo tant'è che questa attrice ebbe poi un fortissimo esaurimento nervoso prostrata nel corpo affaticata resa digiuna per riuscire a raccontare le emozioni come le raccontava le emozioni in questo film questa attrice con secondo proprio la scelta del regista dei primissimi piani nessun linguaggio nessuna comunicazione nessun dialogo è un po' Grazie a tutti.